Se dovessi descrivere Comondo in tre parole, sceglierei assolutamente innovazione, sostenibilità, networking. Dal punto di vista ambientale è una sfida cruciale, una sfida importantissima quella che ci attende. Quando parliamo di ambiente parliamo di riduzioni di CO2, parliamo di efficienza energetica. E parliamo soprattutto di adozione di materiali veramente riciclabili. Per quanto riguarda la riduzione di CO2, il lavoro più importante è stato fatto sugli alto forni. Un abbattimento di oltre l'80% per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua e l'80% per l'abbattimento di emissioni. E poi infine la cosa più importante, l'adozione di materiali riciclabili. Abbiamo una grandissima fortuna, cioè quella di utilizzare ghisa sferidale. Cosa significa? Fondamentalmente ferro, carbonio, un po' di magnesio. Sono elementi presenti nel pianeta Terra. Li prendiamo, li utilizziamo, li ricicliamo infinite volte. È molto importante per noi essere qui e gli obiettivi sono fondamentalmente due. Il primo, naturalmente, incontrare tutti i nostri clienti. L'altro obiettivo, non meno importante, è quello di confrontarci con altri leader del settore per poter con loro crescere, informarci e soprattutto innovare. Il vero contributo, chiaramente, per quanto riguarda noi, può essere restituire un pianeta migliore ai nostri figli rispetto di come l'abbiamo trovato. Grazie. 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 Grazie.